Ciao ragazzi, io sono Corvo Nero e oggi siamo nel terzo otto di Hello Neighbor Niente, questo è il terzo otto E cominciamolo subito Con una cosa lo diventerò in due parti E il terzo otto lo diventerò o in due o in tre parti Perché è davvero lungo, cioè guardate di quanto è lungo Cioè tutto quello che vedete lo devo fare, quindi Non è una cosa che si fa, fidate che non è una cosa che si fa in due minuti Come il primo e il secondo otto No vabbè il primo otto se sei bravo e veloce soprattutto lo fai in due minuti Il secondo è un po' più difficile però C'è Ok Dovremmo la nostra mela Allora prendiamo della colla per spaccare E così citatevi meglio Volevo se faccio questo E perché non occupano tanto spazio nella In questo non occupano tanto spazio Ma dobbiamo faccio uno spaccare mezza casa perché passo Niente Dove raccoglio Ok Qua è tutto chiuso Sì Tutto Ok Tutto chiuso Qua non c'è niente da fare Però non è sopra vero Mi sa che sopra Oh Un inventario pieno E non era sopra Sì era sopra Ma qua Fa un culo Alla Alla trappola Apri Ok Ok Da dove? Non sono morto? Visto che sono riuscito a salire Facciamo questa scala Ok Allora Allora lì c'è qualcosa La vedo dura Qua c'è Non c'è niente Non c'è tanto Ok forse chiudi Chiudi sta parte Oh Niente Eh però è una trappola per il vicino Perché cos'è almeno se viene qua lo butto lì giù C'è quanto di buttarlo giù Non so che non succederà mai chi cadrà però Cos'è sta roba? Perché c'è una sveglia? Ah sì il mappamondo Allora il mappamondo Mappamondo quello che avete visto Mappamondo questo mi ricordo cosa serviva C'è ancora un po' che prende tutt'acqua Però devo dieci Allora Non la colla 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 Ma? Cos'è? Oh Non c'era Cavolo Non mi avrai mai vicino Mai Scatini una scatola Non l'ho presa Quanto è veloce Ora calma Vabbè la cosa buona è che la colla non si è rotta Non so quanto si è buona però Ah però c'è della colla Che poi c'è scritto colla Da quando vieni qua Ci sono morto io Sono morto perché non avevo l'ombrello Qua non c'è un ombrello vero No c'è un cannocchiale Vabbè c'è quello qua Non c'è un ombrello vero per Perché C'è un telefono Ma il telefono E' finito il telefono Poi dovrei vicino a correre Dai ma come fai Un po' lasciamo stare mi sono incastrata Io le... Cioè Stanno andando malissimo sto giro Non riesco... Cioè ne due per te mi vecchia Cioè Cioè Ho sentito il telefono Sto telefono Ma perché non vola sto telefono? Lo sto facendo Perché è un... Sbagliato? Vedo il cielo molto Dove va? Mi ha visto Vediamo che fai essere così Ah Cavolo Ecco c'è un ombrello Ed è giù Ok Proviamo a lanciare Qualcosa per Farmi salire Mi c'è un ombrello Non è la minima di quanto sia contento Perché lui non mi può prendere Più che siamo alla bassa Mi arrabbio Ah Vabbè Addio Dai Le ho commesso Ah sì Questo mi pare Il livello Dove devo fare la spesa Adesso capite cosa intendo con la spesa Ecco Un po' che pare Siamo in un supermercato Guardate l'occhio Se siamo In piedi ci vedono questi Siamo abbassati Non ci vedono Ecco Un po' che pare Noi dobbiamo prendere delle cose Che non me le ricordo Fortunatamente Questo E tipo Questi sono i saldi Quando c'è Ci sono i saldi La gente Va fuori di testa Per i saldi I saldi C'è il pomodoro gratis La gente Non ce la fa Sono le stesse Ok No Sta cadendo dentro Ok Oh Quella ha fatto un salto Ok Cioè Oste Dove Accomociarmi Posso prendere Una cosa Perché sono un basso Ma capisco che Posso fare Perché però Allora Nella vita I saldi Non sono così C'è la gente Non ti viene Perché Perché però Se Ma io ne posso Da rimanere Alla cassiera Dopo Cioè Non le posso Nell'inventare Madonna Ragazzi 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 Non ce la faccio Cioè Con quelli Che vengono Adosso Il carriero Che si sposta Magicamente È stranamente Anche più 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 Grande Di me Giusto No Allora Io mi ricordo Che questa cosa Anche a tempo Ok Dai Non riesco A prenderlo Fatevi Fatevi Nadone Sì 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 Corriamo Prima che scade il tempo Non me ne frega Ok Se questo non posso inclinare Family friend Ti avrei sparato Le 50 parolacce Ma di fila Sono fermo Ok 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 Vedete che urlando Si sistema tutto Non ce la faccio Se basta Mi fanno fare 10 centimetri Poi si verrà Ah Ah Madonna Come faccio Se 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 Vabbè si Ero fermo Se hai visto Ero fermo Appena tu Ero 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 Se hai visto Ero Tu appena senti sto rumore Dovessi fermarti Ero Dovessi cominciarti a fermarti Così dovrebbe funzionare Che poi ti vengono Dai Dai che sono arrivato Veloce Spendi Staccarello Va bene che sei alto come Come un gnomo Però Manca solo Manca solo Anche se Non c'è qualcosa Sbagliato No Doveve essere tutto giusto Lo Si Vediamo Doveve essere tutto giusto Si Doveve essere Si Ma Ok Non vi voglio più vedere Addio Comunque Con questa cosa Abbiamo sbloccato Che Appena io sono Accovacciato Non mi vede Cioè Mi vede Cioè Fa più fatica a vedere Cioè Non mi vede proprio No Perché Non è che Diventi visibile Però fa fatica a vedermi E poi che non serve a nulla Però Cioè è utile Comunque Io pensavo di fare due di queste Senza Bahia Ok Io anche Disfruttare Ah No Aspetta Era una scatola Ok Cosa c'è qua Ecco qua Acco Ok Lì dovrei usare Un'altra cosa C'è un manichino Che mi guarda Eeeh No Allora Lo potevo prendere Ehi Questa cosa c'è A B C C C Ah Io lo so Non me lo ricordo Non mi ricordo Cosa devo fare Solo che a un certo punto Ho un piatto Dai alzati però Allora Lei ci alzi Illuminati Vai Lei ci alzi Non mi ricordo Cosa devo fare Anzi mi pare che si Illuminati Ma se ci sono scale E se ci sopra Non sarebbe Una Dissima idea Se non fossi Dove hai Mappo il mondo Ok Fuori dalla finestra Aspetta Aprilo Aprilo Ok Poi ti do Tuonare Rocky Allora adesso Ho il mappamondo Dove Dove Metterlo Praticamente In frigor Perché Lo so Che mi Mi sono Incastrati In una sedia Perché Non tieni La casa Normale Con qui Niente Il mappamondo Ce l'ho ancora Non so Se funziona Sta roba Allora Lascerò qua Un secondo Forse è qua Usa Sta cosa Ma non lo so Mai No C'è Dove La finestra Perché Andare Tante Adesso Il muro Invisibile Congelati No Non è uno Basta Non è uno Scherzo Il tempo Che vorrei Devo fare Così Solo Che Chi Si ricorda Dove E Spasta Nessuno Dove C'è Antista Cosa Dove C'è Nel Forne Dove Sto Ma Fuora Dove C'è I fornelli Per Mettere Sopra Questa Perché I miei fornelli Sono Finti Fa Solo Il Freddo Solo Il Freddo Per farlo Lembra Si scongela Quindi Più Sono Veloce Proprio Fanno Qui Corri E Niente Allora Questo È Un Problema Perché Si scongela Sto Cosa E Si Scongelato Non Abbastanza Ma Che Lo Posso Mettere Nel Suo Frigo Entra Nel Frigo Sopra Quante trappe le ha messo sto tizio in chieda? Sono trappe Ma i fai? Si Ma da quando Allora Dico la verità Da quando io ho giocato un po' di qualche anno fa Hanno fatto gli aggiornamenti Ma chiaro Ma gli aggiornamenti sono impossibili Ce ne hanno preso Troppo impossible Adesso guardate qua Guardate adesso è qua sopra Io quando ci ho giocato dieci anni fa Non è mai venuto Lo giuro Una volta Qua sopra E le trappole Non so se vedo Ok Dove hai l'ombrello? Fa ancora Ragazzi salta su anche lui Ma cosa? Mi sei fermato Non è normale Adesso cosa faccio Prendo Spero che non sia congelato Perché sarà sicuramente congelato No anche io però sono stupido Farei sta cosa Non ho iniziato a lanciarli Perché Che cosa è che ho lanciato? Perché L'ho proprio al millimetro Veloce Vedete? È bagnato Cosa vuol dire? Che ho fatto Corsa Per niente Poi 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 Oggi Da qua vrus Ah, c'è. Beh, addio, è torta. Vabbè, vi potete lanciare questo. Un po' mancava tantissimo. Lasciami stare. Cioè, chi mette una trappola in... Cioè, questo non è a posto. Ha messo una trappola in mezzo al giardino che lui ci potrebbe prendere. No, non deve prendere. Cioè, veramente, ha messo una trappola in mezzo al giardino. Per niente. Dovrò lanciare adesso la torta. Allora. Allora, io cerco di fare la prossima... Allora, io cerco di fare la prossima... Allora. Allora. Cioè, c'è... Cioè, c'è un... Io ho lanciato la torta a direttore in faccia. No, sentite... sentite una cosa se vedo che ci metto troppo fuori freddo faccio così è presente non per non per caso no che è impossibile c'è l'integro mi prende e mette cinquanta telecamere e cinquanta trappole oh sì allora se ne è toccato dove è andato ok cidi la porta ma è perché oh questo è un mapamonto normale l'inchiastrato ragazzi io vi dico una cosa io proverò a fare la cosa del mapamondo non c'è a mettere quello poi poi penso che per il la propria parte basti è difficile da quando l'hanno aggiornato è diventato eh non ce l'ha cioè adulto non ce la fa scavalcare una finestra vabbè adesso apro e dove? boh non lo so boh non lo so no perchè sto io vi dico la verità dovrebbe potremmo essere dovrebbe essere una cosa un po' più semplice però non è semplice per niente cioè tu c'è questo qua non è almeno ho quale dove la torta? ecco non ho la torta non ho la torta per eccolo questo se riesco a prenderlo serve per e cosa butto? vabbè butto questo qua c'è quello del piede di porco non ho abbastanza spazio devo lasciare giù qualcosa beh per me può stare così cosa c'è? ah si c'è vabbè il prossimo episodio ragazzi per me può stare così il vicino cioè nel senso questo è il terzo atto il vicino si stavano sempre più furbo quanto pare perchè il primo atto era una roba il primo atto era una cosa stra semplice e c'è il secondo una cosa cioè il primo atto era semplice il secondo è un po' meno invece adesso c'è il terzo il terzo attore il stralungo edificio quindi mi sa che farò tre parti in questo video fare questo questa sarà la prima parte per la seconda finchè non lo finirò comunque adesso voglio dire una cosa ma io sento da prima un rumore dell'acqua di acqua qua lo sento cos'è quella roba lì vabbè comunque ente per adesso può passare e mentre da carbonero e il nostro vicino che purtroppo lo devo vedere ancora un po' mi farà ancora spaventare tutti gli infarti mi farà prendere è tutto ciao